È assolutamente importante fare un ragionamento organico sul problema della sicurezza nel nostro territorio. Lo stiamo sollecitando alla Prefetto che sappiamo essere sensibili a queste situazioni, ma a questo punto ci sembra davvero inevitabile fare un confronto anche con la sua torrevole presenza che possa richiamare le istituzioni, perché non abbiamo solo il problema del trasporto pubblico, il più recente le aggressioni in sanità, dentro la sanità hanno creato un protocollo per cercare di superare queste situazioni, ma è ovvio che dobbiamo parlarne in termini generali e cercare di trovare soluzioni anche con l'aiuto delle organizzazioni sindacali. L'ultimo appello in ambito territoriale in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro era stato quello della CISL, vigili del fuoco, polizia penitenziaria sotto organico, ma anche continue aggressioni in sanità e nei trasporti pubblici. Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia è ancora un tema su cui lavorare molto. Anche il Santo Padre e il Presidente della Repubblica hanno lanciato i loro moniti. Eppure ogni volta che l'ANMIL, quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla sua fondazione, celebra la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, i dati sono inaccettabili. Anche se il lieve miglioramento. In Toscana gli infortuni denunciati sono calati del 16,4%. Ci sono stati però 29 morti nel 2023. Calo anche nell'Arettino del 13,6% delle denunce, ma anche nel nostro territorio nel solo 2023 ci sono stati 3 morti e quasi 2.500 infortuni. I dati invece in crescita esponenziale sono quelli che riguardano le malattie professionali. In Toscana nel 2023 sono aumentate del 22%, mentre nell'Arettino di quasi il 40%, uno dei dati più alti in tutto il territorio toscano. Di questo, ma soprattutto di prevenzione, si parlerà nella 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, a cui interverranno tutte le istituzioni locali, il Presidente territoriale di ANMIL, Mirko Marinelli, e il dirigente dell'INA, il di Arezzo, Barbara Bonvini.